Buona giornata amici da Massimo Foghetti, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è giovedì 13 aprile 2023, daremo subito un'occhiata per quanto riguarda le notizie pubblicate oggi dai giornali, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico per quanto riguarda le pagine a livello locale, ma intanto diamo un'occhiata all'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Oggi si festeggia un Papa, un Papa martire che visse nel VII secolo. Si tratta di San Martino, San Martino Papa. Era di Todi, era Umbro, ma andò subito, appena ebbe avuto la sua vocazione, a Roma e qui cominciò il suo apostolato. Fu un unzio poi di Costantinopoli, fu inviato dal suo predecessore, dal Papa che veniva prima a Costantinopoli, dove combatté l'eresia dei monoteliti, i quali però ebbero un'avversione molto molto violenta nei suoi confronti, tanto che tentarono di ucciderlo. Ebbene, San Martino, una volta che fu richiamato a Roma, fu eletto Papa, ma poi fu così ordito contro di lui un attentato. Fu imprigionato, fu riportato a Costantinopoli e poi esiliato in Crimea, dove fu giustiziato. Ecco perché San Martino Papa fu anche un martire e visse nel VII secolo e fu ucciso dopo sei anni di pontificato. Questo è San Martino. Come sempre ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, prima di parlare delle notizie. E vediamo che nelle Marche il tempo è variabile. Si alternano schiarite con nuvole, soprattutto nuvole, più nuvole che schiarite. Tempo in peggioramento, dunque con possibili rovesci e temporali, soprattutto nel pomeriggio. Specie nei settori centro-settentrionali della regione. I venti sulle coste espireranno da ovest, nell'interno da sud-ovest. Temperature sono leggermente in calo rispetto alla giornata di ieri. Comunque anche questa mattina non fa freddo. La temperatura minima è scesa a 10 gradi. La massima salirà a 15 gradi. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. E vediamo subito l'articolo di apertura. È un articolo che riguarda un'azione intrapresa dall'ASET. Le bollette idriche saranno ridotte del 2,8%. Merito dei risparmi nei consumi. Lo ha dichiarato il presidente di ASET, Paolo Reginelli. Dunque, fanesi più cauti nei consumi sono stati invitati al risparmio. E veramente, i fanesi hanno così obbedito a questo invito, anche perché insomma le risorse economiche sono sempre più scarse. E quindi hanno ridotto i consumi. Hanno, per esempio, utilizzato l'acqua di risulta, che sgorga dal rubinetto, invece di rovisciarla appunto nel lavandino. L'hanno utilizzata magari per innaffiare l'orto, per innaffiare il giardino, oppure per utilizzarla per scopi igienici, nel bagno e in altre attività. Quindi un risparmio di acqua. E questo ha provocato anche un risparmio nella bolletta. Ma anche a questa iniziativa ha concorso la stessa azienda, attivando il telecontrollo, ovvero facendo sì che quei guasti che si verificano a monte del contatore, insomma poi non gravino sugli utenti stessi, perché vengono segnalati dopo 48 ore dalla stessa azienda. In modo particolare a chi ha già il telecontrollo. E ne hanno soprattutto il 50% degli utenti fanesi. E il telecontrollo via via sarà esteso nei prossimi anni, probabilmente tra un anno e mezzo a tutta la città riuscirà a avere questo meccanismo importante per evitare grosse perdite. E poi i lavori, i lavori che ASEZ sta compiendo nel territorio, rinnovando le tubature, rissanando le perdite. Abbiamo visto tutti quelli lavori che si sono compiuti. In via Arco d'Augusto, dal caffè centrale verso il cavalcavia di Viale Colombo, e poi proseguiranno, una parte è stata compiuta, poi proseguiranno giù verso il mare. Questo l'articolo di apertura oggi del Corriere Adriatico. E poi vediamo invece a fondo pagina, città dei bambini in carico da oltre 40.000 euro. Per l'edizione 2023, in programma il 28 maggio di questa bella manifestazione, quando Viale Gramsci sarà data in uso ai bambini, quindi il traffico vietato verrà deviato come nei giorni del Carnevale, ebbene, l'edizione del 2024, no scusate, è il 26 maggio, il 26 maggio, ma il 28 era quella del 2023. 2023 il programma è il 28 maggio, quella del 2024 è il 26 maggio. Si tratta della città da giocare. Il tema è diritti verso un mondo migliore. Ebbene, tre eventi legati a Fano, città dei bambini, la cui organizzazione e promozione verrà delegata ad un soggetto esterno. Attività che la procedura negoziata coinvolgerà coloro che hanno aderito alle manifestazioni. Si tratta di un incarico che verrà devoluto, che verrà effettuato per un importo di 36.500 euro. Attenzione, per un edificio da demolire verrà chiusa Viale Dante Alighieri, un tratto di Viale Dante Alighieri, che sappiamo che è la via parallela a Viale Dante Adriatico nella zona di Sassonia. Interrotto Viale Dante Alighieri, senso unico sul lungomare. Lo vediamo in questo articolo di Spalla. Ci saranno dunque disagi, attenzione, sulla viabilità nella zona mare di Sassonia. Sono comunque disagi inevitabili e saranno temporanei. La chiusura di un tratto di Viale Dante Alighieri, con una deviazione obbligatoria a senso unico alternato, con semafero in un tratto appunto di questa via, coinvolgerà il traffico in una deviazione. Tale chiusura si è resa necessaria su richiesta del proprietario di un edificio, che ha deciso di abbatterlo in quanto la sua situazione di stabilità era a quanto precaria. Si è cercato di limitare il più possibile il tempo relativo a tale chiusura e quindi si cercherà di ridurla per quanto i lavori potranno essere brevi. Vediamo un attimo il cantiere, che comporta quindi la chiusura di tale tratta, ha durata da martedì 11 aprile a venerdì 21 aprile. E già nei primi due giorni di chiusura sono emersi appunto i disagi, appunto code e problemi per la viabilità. E poi passiamo subito alla Val Metauro. Alla Val Metauro l'ANAS chiude la Contessa. Ecco i percorsi alternativi. Questo è un provvedimento che creerà ben più disagi rispetto alla chiusura temporanea e limitata di Viale Dante Alighieri. Andare a Roma sarà un problema per chi proviene dalla città di Fano e da tutta la Valle del Metauro, oserei dire dalla provincia di Pesaro Urbino. ANAS chiude la Contessa, chiude dunque quel tratto che collega Cantiano a Gubbio. Ci dovranno essere per forza dei percorsi alternativi, che non saranno facili. Per chi proviene da Fano ed è diretto a Gubbio e verso anche Perugia, dovrà proseguire sulla strada statale 3 Flaminia fino a Fossato di Vico, innesto sulla statale 318, e poi utilizzare la Perugia-Ancona. Chi invece proviene da Perugia e si dirige verso Fano dovrà proseguire sempre sulla statale 318 di Valfabbrica, direttrice Perugia-Ancona, uscire allo svincolo di Fossato di Vico e percorre la Flaminia in direzione Fano. Dunque è una deviazione non certo facile. Certo c'è sempre la scheggia per arrivare in Umbria, è comunque un valico non certo facile, non certo agevole da percorrersi. E questo durerà parecchio, durerà parecchio, sembra fino a dicembre prossimo. Quindi sono lunghi mesi che procureranno questi disagi del traffico. Disagi comunque inevitabili perché l'ANAS ha individuato il dovere di effettuare lavori urgenti nella galleria e poi anche il rifacimento del viadotto tra Cantiano e Gubbio. Lavori che richiederanno un investimento complessivo di 6 milioni di euro per demolire il vecchio impalcato di Calcestruzzo, realizzare un nuovo in acciaio e rinforzare le pile e le spalle esistenti. Dunque la sicurezza prima di tutto per quanto riguarda la viabilità e soprattutto le due infrastrutture, la galleria e il viadotto della Contessa. E poi vediamo quello che accade a Marotta. A Marotta c'è il rilancio dell'iniziativa della famiglia Bianchetti. Vi ricordate la famiglia Bianchetti, il marchio Siviglia, le disavventure che ha interessato questa attività imprenditoriale? Lo scorso novembre la famiglia Bianchetti di Marotta, titolare dei marchi d'abbigliamento Siviglia, era stata assolta dall'accusa di bancarotta distrattiva e preferenziale dopo il fallimento della loro società One Way. Ebbene, ora la famiglia Bianchetti si rimette in pista e si fa partner dell'azienda CES, un gruppo Umbro che entra in comproprietà. Ebbene, che cosa accade? Accade che si rilancia una nuova azienda, una nuova azienda che opererà nel settore dell'abbigliamento, pantaloni di alta qualità e made in Italy. Il brand marchigiano Siviglia apporta a CES un patrimonio di capacità sartoriale e costruzione del prodotto, quindi un rilancio anche per l'economia del nostro territorio. E poi vediamo Senigallia. Vediamo Senigallia e si parla di un'iniziativa che dovrebbe partire e sembra che abbia alcune difficoltà. Si tratta del villaggio della Col di Retti. L'evento infatti è a rischio, ci informa il Corriere Adriatico. Alberghi già tutti prenotati per luglio, ma non si sa se questa manifestazione riuscirà a partire. Si valuta di anticipare di un mese la Kermesse, richiesta l'organizzazione e 300 camere in zona centrale. C'è difficoltà di rispondere ad alcune grandi iniziative di grande attrazione per quanto riguarda l'accoglienza nel nostro territorio. Si fanno iniziative, si invitano tante tante persone, tanti tanti rappresentanti magari che giungono da altre regioni e dall'estero e poi è difficile ospitarli. E questo è un problema che non coinvolge soltanto Senigallia, ma anche alcune iniziative della nostra provincia, la provincia di Pesaro Urbino. Ed ora passiamo alle pagine pesaresi. Le pagine pesaresi, vediamo che l'apertura è dedicata ai lavori che stanno per iniziare in piazzale d'annunzio. Piazzale d'annunzio è già chiusa a Pesaro, infatti parte la corsa al restyling, spostato anche il cascone, il cascone di Valentino Rossi. Fino al 12 maggio, direzione di marcia invertita in due tratti di viale Buonarrotti e Trieste per permettere di fare questi lavori, lavori che sono stati abbondantemente annunciati nei giorni scorsi anche sui giornali ed ora stanno partendo. È una delle iniziative poi che si inserisce tra le attività che l'amministrazione comunale ha intrapreso in vista del 2024, quando sarà capitale nazionale della cultura. Altri no degli alberghi al basket abbiamo ripiegato in Romagna. ho appena finito di annunciare i problemi che sono sorti a Senigallia per l'insufficienza delle strutture alberghiere per ospitare iniziative soprattutto di carattere sportivo, là era la Col di Retti, ma qua abbiamo invece un bellissimo torneo di basket. Ebbene, niente, gli ospiti che vengono vanno poi disseminati nel territorio perché ancora buona parte degli alberghi sono chiusi per la stagione invernale che ancora non è finita del tutto per il sistema alberghiero. Due scuole e la sede del Q10 in vendita, Sindaco e Giunta facciano dietro fronte. Sinistra italiana in questo caso chiede un ripensamento, ma oggi si vota in Consiglio Comunale a Pesaro sulla variante per il cambio d'uso. Ebbene, si tratta della vendita della sede di quartiere di Villa San Martino. Una brutta notizia questo che ha suscitato preoccupazione in una città nella quale gli spazi di aggregazione non sono poi così numerosi come si vorrebbe. Giunta e Consiglio facciano marcia indietro. Però oggi in Consiglio Comunale verrà votata la variante al piano regolatore propedeutica all'inserimento di questo edificio nel piano delle alienazioni e quindi sarà difficile che la Giunta ci ripensi. Si tratta comunque questa di un'invocazione, di una proposta che viene lanciata da Sinistra Italiana. Si tratta anche di trasformare questo stabile in tre edifici. Si tratta, dunque leggiamo bene, oggi in Consiglio Comunale verrà votata la variante al piano regolatore propedeutica all'inserimento nel piano delle alienazioni, così come abbiamo detto, e valorizzazione di tre edifici destinati a funzioni scolastiche. Questi tre edifici sono la scuola Olivieri di via Confalonieri, la sede del Q10 in via degli Artigiani e la scuola Mascarucidi di via Agostini. Questo è un po' il senso, il progetto dell'amministrazione comunale. Ed ora diamo un'occhiata ad uno dei punti più pericolosi della viabilità pesarese, quello delle Siligate. Rotatoria delle Siligate, l'ANAS conferma, traffico vietato, il quartiere è d'accordo, lunedì partono i lavori, ieri il sopralluogo dei tecnici, chiuso il bivio per Fiolenzuola di Focard. Tiriamo ancora la pagina e vediamo quello che è accaduto ieri pomeriggio a Pesaro, quando il Circolo della Stampa ha così premiato tre e quattro, anzi rappresentanti della cultura, del mondo imprenditoriale della città. Giovani, meno giovani, che hanno così dato lustro alla città di Pesaro. Il bello della provincia, bello questo titolo che appare sulle Corriere Adriatico, il bello della provincia conquista il mondo, premi a quattro grandi cresciuti in questa terra. Commozione e orgoglio a Palazzo Montagna Antaldi, dove si è svolta la cerimonia, presenti tutte le autorità cittadine, dal sindaco Matteo Ricci, c'era anche il sindaco di Fano Massimo Seri, c'era il prefetto, c'era la presidente di Confindustria, insomma c'erano tante autorità, anche della cultura, dell'arte, dell'imprenditorialità pesarese. Ebbene, i riconoscimenti, quest'anno, abbiamo annunciato anche nei giorni scorsi, sono stati dati ad Alice Acciarri, general manager eBay Italia, e poi a Viola Cepetelli, che è una delle restauratrici, pensate, dei musei vaticani, una delle restauratrici degli arazzi, arazzi di Raffaello, quelli della Manifattura dei Gobeli, insomma veramente opere d'arte fantastiche. e poi ancora ad Alberta Ferretti, che ha ricevuto il premio per la capacità di avere sempre saputo raccontare, con le sue creazioni di moda inconfondibili, la creatività e l'eccellenza del made in Italy nel mondo. E infine a Gianni Tangucci, per la sua lunga e splendida attività ai vertici delle massime istituzioni artistiche e culturali. È stato direttore artistico dei maggiori teatri italiani ed è stato veramente così, omaggiato, sono stati fatti gli auguri a Gianni Tangucci, da parte di Michele Mariotti e anche da Riccardo Mutti, che sono apparsi in video durante la cerimonia. Tangucci è stato direttore del Reggio di Parma, del Comunale di Bologna, dell'Opera di Roma, del Maggio Musicale Fiorentino, del San Carlo di Napoli, della Fondazione Pericolesi Spontini, dell'Arena di Verona, insomma veramente, il suo palmares è veramente lungo, è prestigioso. Ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Urbino, travolto dal ramo che tagliava, agricoltore muore dissanguato, una disgrazia veramente drammatica, che è accaduta a Pietrarubbia. La vittima è Renzo Domenici, 78 anni appunto di Pietrarubbia. L'incidente è accaduto a Caccarbone, vicino a casa, con una pala meccanica, stava tagliando un albero, un ramo di un albero, quando purtroppo è accaduta la disgrazia e l'uomo si è ferito ad una gamba, tagliandosi, ferendosi l'arteria femorale, quindi il sangue è uscito copioso e il poveretto è deceduto, dissanguato, non è stato possibile soccorrlo in tempo per tamponare la ferita. E' stata la moglie a scoprire il corpo, esanime sul terreno, dunque inutili i soccorsi per quanto riguarda questa disgrazia. Ed ora passiamo al resto del Carlino. Il resto del Carlino apre con una notizia progettuale importante che qualifica la città di Fano. Spunta una cupola alla Darsena Centrale, ecco la videosfera della marineria. L'assessore Lucarelli presenta il progetto dell'ecomuseo che comprende anche l'acquisto dello scimitar. Ebbene, una iniziativa questa che è apparsa proprio in questi giorni nelle attività di giunta. Scimitar Info Point. La scimitar, questa barca, da guerra prima, poi trasformata in ristorante, poi era caduta un pochino così in situazioni non certo eccellenti, ancorata come era nel porto di Fano, ora invece sarà di nuovo valorizzata. Importante questa iniziativa. Infatti sarà trasformata in un Info Point e successivamente verrà anche corredata di una videosfera in cui saranno così proiettati tutti gli aspetti della marineria fanese. Chi entrerà in questa grande cupola vedrà il mondo della marineria ruotare attorno a sé. conoscerà la storia, conoscerà gli usi e i costumi, conoscerà le tecniche e conoscerà soprattutto la gastronomia di questo mondo suggestivo che ha una forza di attrazione turistica non indifferente. Dunque è un interessante articolo da leggere per una iniziativa. Poi il resto del Carlino continua con i suoi articoli di carattere politico prefigurando, cercando di individuare il prossimo candidato sindaco al comune di Fano quello che si presenterà alle elezioni delle 2024. Ebbene, le dichiarazioni di Francesca Puglisi che nei giorni scorsi venendo a Fano ha scoperto molte cose che non fanno e che i panesi poi conoscono benissimo ha creato un momento di crisi di ripensamento all'interno del Partito Democratico il quale aveva in programma un incontro con i Cinque Stelle che ora viene saltato. Terremoto Puglisi questo è il titolo salta l'incontro PD Cinque Stelle dopo le picconate dell'ex sottosegretaria al governo la Puglisi era tale nella scorsa legislatura i DEM annullano il confronto e interviene anche Davide Rossi ex assessore provinciale e anche ex assessore alla cultura del comune di Fano ai tempi della giunta a Guzzi centro-sinistra stritolato resta solo la Ruggeri afferma Davide Rossi lancia la candidatura di Marta Ruggeri di Cinque Stelle Marta Ruggeri sembra farò comunque che nelle edizioni scorse del resto del Calino abbia dichiarato che non ne vuole sapere di fare la candidata in quanto intende restare in regione ma vedremo poi come le evoluzioni di questo movimento le cose possono cambiare anche da momento all'altro nel corso della campagna politica a che cosa accadrà e alla fine quali saranno i giochi che emergeranno giriamo ancora la pagina e passiamo a Stacciola Stacciola è una frazione di San Costanzo Stacciola riqualificata con i soldi dei cittadini il comitato locale ha contribuito con 35.000 euro al restyling fondi derivanti dalla vendita della rinomata crescia la crescia di Stacciola plauso del sindaco ebbene guardate che bel borgo è quello di Stacciola è stata rinnovata tutta la pavimentazione che ha circoscritto la piazza realizzata con un investimento complessivo di 200.000 euro a cui appunto ha contribuito anche il comitato ad Urbino si evidenzia come le gite scolastiche abbiano aumentato i costi del 30% molte scuole hanno rinunciato a viaggi lontani per il costo dei pullman altre si sono accorte che i percorsi brevi sono più costosi insomma come la coperta si tiri scopre qualcosa sia che si vada lontano sia che si vada vicino ebbene anche l'Erasmus è stato dirottato alla Laurana pensavano di andare in Irlanda ma hanno cambiato meta preferiscono Malta Malta un pochino più vicina e forse un pochino più economica comunque c'è stato un aumento che va veramente dal 20 al 30% e non tutte le famiglie riescono a sopperire a questi costi e soprattutto quando un bambino quando uno studente diciamo perché qui non sono bambini rimane a casa mentre tutti quanti gli altri fanno queste gite e sono anche di divertimento oltre che di istruzione ebbè c'è qualcosa che non va è qualcosa da aggiustare e ancora sulle pagine dall'entroterra vediamo Cantiano qui abbiamo altro articolo che riguarda la chiusura della Contessa lo stop da lunedì 17 17 aprile quindi molto molto vicino sulle pagine di Pesaro vediamo come il sindaco Matteo Ricci intervenga per lo stato di emergenza che il governo ha dichiarato ha accettato di dichiarare per i comuni di Pesaro Fano e Ancona particolarmente colpiti dal terremoto del 9 novembre scorso ma in concreto che cosa significa significa che arriveranno dei fondi per aiutare i comuni a riparare i danni che il sisma ha provocato si tratta di 4,8 milioni di euro pochi secondo Matteo Ricci per soddisfare le esigenze di tre comuni importanti come appunto le tre città delle Marche e quindi 4,6 milioni non basta ma prima di chiudere voglio farvi vedere quello che il Carlino dice per la festa della polizia arresti e denunce l'impennata e il questore si commuove al discorso c'è un bellissimo articolo corredato di molte fotografie per la festa della polizia che si è svolta ieri a Pesaro e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci andiamo a Ieri grazie a tutti Grazie a tutti.